un giorno come tanti altri moreno e nicolas passeggiavano per le vie di brescia a un certo punto a moreno venne un dubbio nicola perché piatta paolo sesto perché paolo sesto è un grande papa bresciano passeggiando poco più avanti lo stesso dubbio ritornò nella testa di moreno nicolà invece questa perché siamo a san paustino via san paustino perché è lui il padrone di brescia superate le vie principali nicola si sperava in una passeggiata tranquilla proprio quando moreno gli disse dico capisco piazza duomo capisco san paustino perché via cocifissa di rosa sai che questa volta non lo so raduniamo tutti lo andiamo a scoprire a scoprire il guarda Nicola siamo ancora in via con Cipissa di Rosa ora sappiamo chi è stata è stata la prima donna che ha fondato le ancelle della carità ed ha aiutato molte persone gli ammalati i senza tetto però nessuno conosceva questa suora ci sono tante vie con tanti nomi che nessuno conosce andiamo a scoprirli no grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti